Piacenza non eccelle e le prime posizioni nel ventitresimo rapporto Ecosistema Urbano di Lega Ambiente e Ambiente Italia pubblicato sul Sole 24 Ore sono state conquistate ancora una volta da altre città. L'indagine si è basata su 17 parametri divisi nelle macro aree aria, acqua, rifiuti, energie rinnovabili e mobilità in 104 città nel 2015. Piacenza guadagna due posizioni rispetto allo scorso anno posizionandosi al trentaseisimo posto, non si trova in una situazione disperata ma non può certo gioire per esempio di un sedicesimo posto conquistato per la presenza di piste ciclabili quando le PM10 la fanno scendere alla settantacinquesima posizione a livello nazionale. Come dire, si possono percorrere chilometri in bici in piena libertà e sicurezza ma i polmoni dei ciclisti non ringraziano. Anche sul fronte ozono le notizie non rassicurano con una settantesima posizione mentre il biossido di azoto, magra consolazione, fa risalire la città fino al cinquantottesimo posto insieme a Cremona e Lecco. Un ventiquattresimo posto viene guadagnato per il trasporto pubblico con una media di 72,2 passeggeri abitanti nel 2011 e 84,4 nel 2015. Il verde fa conquistare una trentesima posizione. Al primo posto della classifica generale si è piazzata Macerata che proprio in questi mesi sta facendo i conti con i danni del terremoto.